Buonasera a tutti, siamo presso la piazza GB Grassi del comune di Fiumicino dove adesso il team di Carlo Paolacci con Comic Art hanno illuminato la facciata del vecchio palazzo del comune e abbiamo lasciato volare il 2016 come simbolo che anche quest'anno abbiamo acceso una luce blu anche in questo comune per sollecitare quella che è la giornata mondiale dell'autismo. Qui con noi ci sono tantissime famiglie che sono a corse con noi per aiutarci e sostenerci e darci forza anche a vicenda. Io ringrazio veramente tutti, da chi ci riprende, che è venuto qui nonostante tutto, da chi ci ha illuminato il palazzo, da chi ci sopporta come tutte le famiglie, veramente grazie. Però un grazie te lo voglio far strillare da loro, forte forte. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille.